Salve a tutti, sono Gian Rocco Mecca, consulente finanziario. In questo video vi parlerò dei fondi pensione, della previdenza integrativa. Si tratta di un argomento complesso che ho preferito trattare con più video in modo da poter dare il giusto risalto ad alcune argomentazioni specifiche. Da ormai diverso tempo l'Invese e le associazioni di categoria hanno lanciato un monito sul gap previdenziale, sulla differenza tra l'ultima remunerazione che riceveremo e il primo assegno di pensione. È fondamentale dunque intervenire per costruire una seconda pensione e tutto ciò è incentivato da un punto di vista fiscale, consentendo la deducibilità dei versamenti effettuati. È fondamentale dunque inserire la previdenza integrativa all'interno della propria pianificazione finanziaria come una pietra miliare della stessa. L'obiettivo di un fondo pensione è integrare la pensione pubblica. Questo è possibile attraverso la sottoscrizione di un piano che consente di accantonare in modo regolare parte dei risparmi in vita lavorativa per ottenere una pensione aggiuntiva a quella che si otterrà grazie alla previdenza pubblica. A raggiungimento dell'età pensionabile, se sono passati almeno 5 anni dalla sottoscrizione del fondo pensione, sarà possibile quindi procedere alla prestazione. I vantaggi del fondo pensione sono, riassumendo, quattro. Il primo è un vantaggio fiscale, in quanto lo Stato, avendo consapevolezza delle difficoltà di garantire una pensione congrua, permette di dedurre dal reddito i versamenti effettuati annualmente fino a 5.164,57 euro. Per i lavoratori dipendenti che hanno optato per la destinazione del TFR ad un fondo pensione, questi in sede di prestazione usufruiranno di una tassazione agevolata, che può arrivare fino al 9% rispetto al 23%, minimo riservato invece a chi lascia il TFR in azienda oppure lo versa all'Inps. Un terzo vantaggio notevole è la possibilità di ottenere delle anticipazioni in caso di specifiche esigenze. Infine, si tratta di una destinazione stabile in un contesto lavorativo dinamico. In particolare, è stimato che immediatamente si cambierà lavoro ogni 7 anni nel corso della nostra vita. Questo produce un effetto molto negativo, cioè ogni volta che cambiamo lavoro il TFR viene liquidato. Ciò non avviene se lo destiniamo ad un fondo pensione, in quanto potremo traslarlo da un datore di lavoro all'altro, accumulando il nostro gruzzolo nel tempo. Possiamo selezionare tre tipologie di fondi pensione, un fondo pensione aperto, chiuso o un PIP. Il fondo pensione aperto è accessibile a chiunque senza limitazioni. Possono accedervi anche chi non lavora. È possibile accedere sia in modo individuale che collettivo. Nell'adesione collettiva del fondo pensione andranno a confluire, oltre al TFR, anche una quota del datore di lavoro e una quota aggiuntiva del lavoratore. Questo, a mio avviso, è un vantaggio notevole. I fondi pensione chiusi sono collegati invece a contratti collettivi. Sono fondi di categoria riservati a determinati lavoratori. Infine, i PIP, i piani individuali di risparmio, sono prodotti assicurativi finalizzati, quindi alla creazione di una pensione integrativa. In ogni caso, sul sito covip.it sono presenti tutti i fondi pensione ed è possibile effettuare alcuni raffronti. La selezione del fondo pensione dovrà essere effettuata sulla base di alcuni elementi importanti, come i rendimenti storici pensati per il rischio, i costi del prodotto e la presenza di eventuali coperture accessorie. Quale linee di investimento scegliere? Le linee di investimento possono differire sulla base del rendimento atteso e del rischio assunto. In particolare, quattro linee sono presenti in gran parte dei fondi pensioni, che sono una linea capitale garantita, che quindi offre stabilità con un rendimento modesto nel tempo. Le linee obbligazionarie, bilanciate e azionari, dove bilanciate sono un mix di obbligazioni, azioni e titoli di Stato. Un fattore chiave per la selezione del profilo è l'età. Tanto più lungo sarà l'orizzonte temporale, tanto più è preferibile esporsi. Quindi, se si è all'inizio della propria attività lavorativa, la selezione di una linea azionaria ha più senso rispetto ad un soggetto che è prossimo alla pensione. Su questo argomento invito alla visualizzazione del video creato proprio per la scelta delle linee da selezionare. Un inciso, una volta selezionata la linea, non rimane sempre la stessa nel tempo, ma sarà possibile variarla. Generalmente i fondi pensioni prevedono uno o due finestre all'anno in cui poter effettuare la variazione. Veniamo ora alle prestazioni. A raggiungimento dei requisiti della pensione obbligatoria, se si hanno almeno cinque anni di contribuzione al fondo, si ha accesso alle prestazioni. Ci sono tre opzioni di scelta. Trasformare tutta la posizione in rendita, ricevendo così per tutto il resto della vita una seconda pensione. Ottenere sotto forma di capitale il 50% della posizione e trasformare il restante 50% in rendita. Oppure ottenere tutto sotto forma di capitale, nel caso in cui il soggetto è iscritto alla previdenza complementare prima del 93, oppure se si ha un importo accumulato entro determinati limiti. Anche qui invito alla visualizzazione del video che tratta l'argomento delle anticipazioni e delle prestazioni. Spero a questo punto che questo video abbia acceso una lampadina sull'importanza della pianificazione finanziaria, soprattutto riguardo la previdenza integrativa. Tutto ciò incentivato dallo Stato, consentendo la deducibilità dei versamenti effettuati. A questo punto invito tutti ad iscrivervi al canale, se non l'avete già fatto, in modo da ricevere gli aggiornamenti automatici sui prossimi video. E vi auguro un buon investimento a tutti. Grazie a tutti.